È una realtà in costante crescita quella dell'Avis di Fano che punta a chiudere il 2017 a quota 4.630 donazioni. Grazie alle tante iniziative organizzate dal direttivo e dagli oltre 60 volontari, solo quest'anno sono arrivati 230 nuovi donatori, tra cui 95 donne, che si aggiungono e vanno a formare il numero complessivo di associati, 2.461. Solo negli ultimi tre mesi sono ben 70 le persone che si sono avvicinate all'Avis. Nei giorni scorsi poi nel centro trasfusionale dell'ospedale Santa Croce si è svolto il 14esimo Donor Day dell'anno, ovvero una giornata in cui è stato possibile donare sia al mattino che al pomeriggio e questa volta dedicata alle associazioni, alle società sportive e alla famiglia. Come sempre il mese di dicembre è dedicato alla famiglia e quindi anche quest'anno vogliamo concluderlo in bellezza perché appunto tutte le persone che ci sono state vicine in questo momento ovviamente si sentono parte della nostra famiglia visina e lo dimostra anche la cena di Natale che abbiamo avuto pochi giorni fa dove è stata molto partecipata, soprattutto da quelle associazioni e anche società sportive che sono sempre vicine a noi. Donando si mette a disposizione degli altri una parte di sé, offrire il proprio sangue significa compiere un gesto di solidarietà che non solo fa bene al donatore stesso ma si dimostra indispensabile per tanti pazienti. E allora la domanda sorge spontanea, perché non donare? Il centro trasfusionale sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno eseguire esami e accertamenti completamente gratuiti. C'è un impegno da parte di quest'Avis di insegnare un po' la cultura della donazione. Quest'anno è stato un anno buono come raccolta, mi ripeterò ma quello che mi emoziona sempre è questa risposta immediata, pronta. Noi abbiamo bisogno, chiamiamo le Avis e i donatori arrivano. Ecco quindi questo lavoro di squadra ma soprattutto questa risposta immediata da parte dei donatori che in un mondo molto veloce, in una società che ci chiede sempre di più, riescono a trovare un po' di spazio per far veramente del bene in maniera concreta agli altri. Auguri di Buon Natale e felice anno nuovo da Avis Fano. Auguri di Buon Natale